Operatori portuali di Ortona ed imprese che utilizzano lo scalomerci lanciano un grido d'allarme rispetto alla mancanza di fondi per la portualità abruzzese all'interno della bozza governativa per sfruttare i fondi del Next Generation EU. Senza investimenti nelle infrastrutture e nella manutenzione dei porti di Ortona, Pescara e Vasto, dicono e scrivono operatori ed aziende in una lettera indirizzata ai parlamentari abruzzesi, non ci sarà futuro per gli scali che rischiano di vedere svanire commesse importanti nonostante la posizione strategica al centro del corridoio tirreno adriatico, come spiega il responsabile del Molino Casillo, tra le aziende più importanti nella produzione di grano. Il Molino Casillo opera già da qualche anno col porto di Ortona, però per poter competere con il mercato e tutto il resto abbiamo necessità di migliorare sia il dragaggio del porto e completare alcune infrastrutture, quali le banchine. Così anche le ZES, le zone economiche speciali, rischiano di essere un fallimento. Le imprese abruzzesi, scrivono i firmatari della lettera aperta, in assenza di porti funzionali, saranno costrette a scegliere altre destinazioni distanti con aggravio di costi e perdita di competitività. Le ZES, zone economiche speciali, cosa dicono? Dicono che le aziende che vengono a mettersi in queste zone hanno delle agevolazioni, ma se non possono entrare al porto, se la ZES è collegata al porto, il porto è la ZES. Se non possono entrare, non ci sono i pescaggi, non ci sono i banchini adeguati, chi è che viene? Non viene nessuno, la ZES sarà un fallimento per me, secondo me. Grazie.